e ben trovati anche per la nostra pagina sportiva in apertura la lucchese prosegue il ritiro sulle alture del ciocco andiamo a conoscere un altro dei protagonisti della nuova stagione rossonera dopo la partenza contemporanea di Tiritiello e Benassai e la fine del prestito di Chiorra la lucchese deve ricostruire l'ossatura principale della difesa che ad oggi dovrebbe basarsi sull'esperienza di Coletta, Gasbarro e Fazzi per la fascia sinistra, zona di campo che in stagione ha visto alternarsi diversi interpreti fra cui De Maria e Visconti è comunque stato ingaggiato Edoardo Antoni classe 1999 dal Tau Calcio nell'equifila ha disputato un'ottima stagione nel campionato nazionale di Lettanti con 33 presenze, 6 assist e 4 gol è stata una strategia un po' lunga sicuramente anche non per indecisioni o per cose varie ma perché ho preferito finire l'anno al Tau e esprimermi al meglio per quella stagione per poi essere pronto ad affrontare un campionato di livello superiore Siete insieme solo da due giorni ma qual è stato l'impatto, il primo impatto con i compagni di squadra? Ma sinceramente ho trovato un gruppo di squadra molto tranquillo e sereno mi hanno accolto a braccia apertissime e sto chiaramente, essendo il secondo giorno sto sempre cercando di imparare tutti i nomi, di conoscere meglio i ragazzi però comunque sia ho notato che il gruppo è molto sano e sicuramente mi daranno una grossa mano Mister Gorgone che ti ha detto? Ma ci ho scambiato proprio stamani due parole mentre ero lì in palestra che facevo due esercizi miei personali e niente, lui ha grandi aspettative e spero di accontentarlo e sicuramente mi metterò subito a disposizione e vedremo un po' come andrà quest'anno chiaramente noi punteremo a fare il meglio possibile e sarà il campo a dire la sua Ed ora i motori dopo il terzo round di gara del campionato italiano Sport Production Aprilia il motociclista versiliese Thomas Benetti è ancora in testa alla classifica con 8 punti di vantaggio sul secondo il titolo per il campionato è una sfida a due fra lui e Marco Darold l'ultima giornata di gara è andata in scena all'autodromo di Modena con il Centauro 15enne di Stazzema che ha conquistato un terzo e un quarto posto con qualche problema alla sua Aprilia 8 settembre a Verona, 15 settembre a Varano gli altri due appuntamenti che chiuderanno il campionato e che speriamo possano sorridere a Benetti adesso andiamo all'hockey nelle nazionali maschile e femminile under 17 ci sono sei versiliesi sei giocatori versiliesi fanno parte della rosa della nazionale under 17 di hockey su pista guidata da Massimo Giudice che ha iniziato l'avventura al campionato europeo under 17 maschile e femminile in svolgimento ad Olot in Spagna bene le femmine che hanno superato 2-1 la Germania e i maschi 4-0 la Francia si tratta di Filippo Poletti della Pumas, Elia Cardella della Pumas, Giovanni Pesavento anche lui della Pumas Lorenzo Giovanelli del Forte dei Marmi per quanto riguarda la rappresentativa maschile e versiliese Bianca Bertolucci della Pumas, figlia fra l'altro di Mirko Bertolucci e Anna Palagi, hockey via Reggio per quanto riguarda le versiliesi nella nazionale femminile le rose complete nella squadra femminile sono con l'aggiunta di Stella Rossato del Valdagno Maria Boscato del Trissino, Laila Carlucci del Matera, Matilde Ghirardello del Breganze Vanessa Mazzilli del Matera, Teresa Messora del Modena, Laura Rubega del Valdagno Emma Cazzola del Trissino Il gruppo maschile si completa con Giovanni Cunegatti del Valdagno, Filippo Vallortigara del Bassano, Antonio Biasini del Bassano, Simone Ceretta del Trissino, Pietro Crosara del Valdagno Jacopo Reniero del Bassano, Andrea Tognetti del Breganze, Francesco Tognetti anche lui del Breganze dunque prosegue anche con questi ragazzi la tradizione okeyistica e rotellistica versiliese andiamo adesso alla pesca sportiva con un corso che ha visto protagonisti quasi 60 ragazzi 26esimo anno di corso della scuola di pesca per giovani pescatori in erba che ha riscosso come sempre un grande successo di partecipanti 57 ragazzi che hanno seguito le lezioni, 47 quelli presenti alla giornata finale, prova pratica che si è tenuto sul campo gara del lago ovest dei laghetti di Lammari il corso di pesca Andrea Lucchesi è stato realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee di Lucca e il complesso dei laghi Isola Bassa Carlo Chines di Lammari dove si sono tenute le lezioni di teoria e pratica per ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni gli aspiranti pescatori grazie ai componenti della società lucchese hanno acquisito le nozioni principali su come montare le lenze, usare le esche adatte ai vari tipi di pesca, le legature degli ami e le pombature tutto questo messo in atto nella giornata finale con una gara che si è conclusa con un percorso iniziato con l'emozione del pescato e della classifica ma soprattutto divertendosi nella sfida alla fine premi per tutti con il presidente della lenza sportiva Sant'Alessio Riano Ercolini il direttore di corso Paolo Petroni e l'assessore alle politiche sociali del comune di Capannori Silvia Sarti complimenti a questi ragazzi con questo termine la nostra pagina sportiva di oggi un breve break e tra poco c'è la terza parte del nostro telegiornale Grazie 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 Grazie